Tanti cuscini colorati, qualcuno a forma di maglietta, tavoli per il ping pong, giostre per bambini, tappetini per lo yoga, bocce, scacchi, i giochi di una volta insomma che conservano una magia unica, l'essere universali, tanto da unire lingue e diversi colori della pelle. E così un lato di Piazza Umberto per un giorno si trasforma in un giardino animato, merito di promo verde e superattico che in occasione della primavera mediterranea allestita in via Ergiro hanno voluto portare per la prima volta a Bari Parking Day, una manifestazione nata nel 2005 a San Francisco per sostituire le auto comprati e giochi. Qui a Bari però è andata in una maniera un po' diversa. Un po' diversa sì perché in realtà come si può vedere sono giochi abbastanza innocui e invece nel momento in cui abbiamo chiesto il permesso per utilizzare degli spazi di sosta per le macchine, quelli a pagamento, per poter metterci un manto erboso e comunque qualche giochetto, ci hanno detto che la nostra attività era pericolosa e quindi non ci hanno dato l'autorizzazione. Ma noi comunque sapendo che ci sono altre zone bisognose di aiuto e di attenzione ci siamo spostati su Piazza Umberto. Alla fine anche se non al posto delle auto giochi e aree relax sono state montate per un giorno. Il prato nuovo sistemato dagli organizzatori invece rimarrà sempre che qualcuno se ne prenda cura.